Va bene, io per conto mio sono molto felice che abbia vinto finalmente dopo dieci anni una donna. Viola. Allora, io a parte i cliché su Napoli che sono veramente ormai urticanti, nel senso sono una maniera di semplificare la complessità di una città che è chiaramente più facile semplificare attraverso stereotipi e vedo che si ripetono nel tempo e nello spazio. Dopodiché, Angelina Mango credo che sia una cantante meravigliosa, ma io su questo vedo, oltre che lo scolamento sociale, politica, vedo uno scolamento generazionale, perché quando mio figlio che ha dodici anni ha saputo che tra i partecipanti a Sanremo ci fossero Giollier e Angelina Mango e altri, è stato felicissimo, lui già li conosceva, era fan, conosceva tutta la discografia, quindi siamo noi che forse ci meravigliamo, diciamo ma chi è Angelina? Ah sì, è la figlia di Pino Mango, no? È una che già adesso, così giovane e così brava, ha già tantissimi fami. Tant'è che Sanremo ha recuperato moltissimo sui targhe giovanili. Ha recuperato tanto, l'azienda Rai. Perché nessun giornale non mi ha scritto niente? Ma guarda, ma tu ci parli con i ragazzi? Perché, scusami, perché sono fatti da vecchi i giornali? Ma che da vecchi? Perché i giornali sono fatti da vecchi. Parlano sempre di questi quattro svalvorati. Ti racconto una storia, i giornali continuano a scrivere che i giovani non hanno voglia di fare nulla. Io ho trovato titoli del Corriere della Sera del 1950 che dicevano non troviamo cuochi, non troviamo operai perché i giovani sono fannulloni. E perché lo scrivevano? Perché erano fatti da vecchi anche allora. Cioè, speriamo però, scusatemi, una cosa voglio dire. Chi non conosce il Corriere vuol dire che non parla con suo figlio o sua figlia. Si deve fare una domanda. Sia su Napoli che su Milano. Quindi quei fischi, diciamo così, molto pesanti, quando lui ha vinto la gara delle cover. Tu hai scritto su un post, poi l'hai ripreso anche in un intervento sulla stampa. È un fatto di ignoranza musicale. E poi tu hai messo anche perché siccome parla napoletano allora diventa subito una macchietta. È stato semplificato. Ah sì, dice un caffoncello napoletano che viene qui, parla in maniera incomprensibile, ha un'estetica un po' dubbia, magari anche uno colluso con la camorra si sarà comprato i voti. Chissà che ci fa qui. Lui è uno che ha milioni e milioni di ascolti, milioni di fan in tutta Italia. E su Spotify è il primo posto. I luoghi da cui viene ascoltato Milano, poi Roma, infine Napoli. Comunque, va detto anche che lui è stato una cosa importante. E qui a Traballo, una cosa fondamentale che va detto allo spettatore, che i voti poi sono manovrati da chi organizza i concerti. Fessi Saremo non serve a vendere i dischi e ne compra più nessuno. Serve per i concerti. Ecco che allora creare un personaggio, farlo vincere, vuol dire riempire gli stati. Allora, tutti quei voti... Ma non è Saremo che crea Giuliette, è Giuliette che va a Saremo e fa crescere gli accolti. Io sono scusato, però voglio difendere il diritto del pubblico di fischiare. Perché se uno fa il cantante, fa l'attore, canta all'opera o balla, sa che tra i suoi rischi ci sono anche i fischi. Possono essere applausi o fischi. Io contesto la motivazione se è stata razzistica. Ma altrimenti un pubblico di signori che pagano mille euro a poltrona e quindi hanno tutti in un'età media piuttosto alta. Ma non è che il pagato... A meno che non abbiano ereditato. A meno che non abbiano ereditato. No, c'è razzismo. Arriva un ragazzo e non lo capiscono. Perché loro capiscono chi è coitaneo della loro età. Cioè se avessi cantato in triestino l'avrebbero fischiato uguale, secondo te? L'anno scorso c'era l'Asa che fa lo stesso genere di Giollier. Hanno anche collaborato, hanno fatto delle performance insieme ed era lo stesso genere. E nessuno la fischiato. Ma non era in senso la classifica. Il problema era la classifica. Si taglia la testa al toro in questo caso perché peraltro Giollier, a differenza di ultimo di qualche anno fa, c'è un ragazzo che sta a stare al mondo, ha detto che non ho nessuna... Educatissimo. Non mi sento scavalcato. Per cui proprio veramente è arrivato uno che sta a stare al mondo.